Pronto? Pronto! Pronto signora Dibaldo, buongiorno! Posso farle qualche domanda? Sarò brevissimo, le ruberò soltanto due minuti. Lei ha una lavatrice? Una lavastoviglie? Un cane? Benissimo signora, che prodotto usa per pulire il water? Numero 876, cosa stai facendo? Sempre niente? Ma no niente, stavo parlando! Silenzio Enrico! Sì capo! Ma volete sapere chi sono io? Io sono un numero, sono il numero 876, siamo a milioni, nessuno ha bisogno della vostra opinione, mi farò desiderare sempre più cose, economia, io sono dentro il sistema, più vendo più guadagno, più consumate più guadagno, questo è il sistema, abbattiamo alberi, facciamo saltare in aria le montagne, ma chi se ne frega? C'è il terzo mondo, andiamo lì a prendere le loro cose, loro non hanno mezzi di produzione, no problem, non è così, consumare, 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 no io, no sono io, no sono in ritardo, anche stamattina lo so, anche stamattina, ma guarda chi, io disapprovo quel che dite, ma difenderò fino alla morte il vostro diritto di dirlo, io sono un essere umano, capo non ci sto, io voglio restare qua, io l'ho, capo no, no!